Primo premio giornalistico Alessandro Orzini per ricordare la figura di tuo padre tra l'altro una bella iniziativa perché è rivolta ai giovani giornalisti Sì assolutamente sì, l'assessorato allo sport del comune ha voluto organizzare questo premio io ringrazio Gian Paolo Arduini è un'iniziativa rivolta ai giovani giornalisti che ormai giovani giornalisti si intende anche 35 anni insomma pubblicisti, professionisti anche non iscritti all'albo che abbiano prodotto degli articoli di sport, di cronaca di storia dello sport nel 2011 ci sarà un bando, una selezione, poi chi verrà premiato avrà la grande opportunità di passare due mesi alla gazzetta dello sport a Roma o a Milano e insomma una bella opportunità formativa Tutti i dettagli sul sito che è già online? Sì www.premioalessandroorsini.it poi saranno anche sul sito dell'ordine dei giornalisti che è aderito con il presidente Stefano Pallotta e del comune dell'Aquila chiaramente